E' stato approvato il finanziamento dei 10 milioni di euro da parte di Banca Intesa San Paolo per la realizzazione e l'ampliamento della linea di compostaggio del polo tecnologico di zero spreco. Devo dire che il finanziamento che ci viene concesso da Intesa San Paolo di una così rilevante importanza va a sottolineare la bontà di quello che è stato il nostro progetto. E quindi il ringraziamento a tutti i miei colleghi perché possono tranquillamente essere sicuri di aver dotato questa provincia oggi di un'impiantistica che è essenziale, base e fondante per tutto quello che sarà l'economia circolare. Quindi questo partner bancario accanto a noi così importante ci dà ulteriore forza e ci consentirà di portare avanti tutti questi lavori, appunto la costruzione del biodigestore e l'ultimazione del compostaggio. Stiamo guardando anche tutta la linea di termovalorizzazione. Ci consentirà di portare, come dicevo, questi lavori avanti senza andare a pesare sulle tariffe che mi sembrano già abbastanza gravate da quello che è il sistema ARERA che è un sistema profondamente sbagliato e che spesso va a ripartire su tutte le teste, su tutti i cittadini le inefficienze di province e di territori che purtroppo non si sono dotati di impiantistica all'avanguardia. Dunque, qual è la notizia? Per questo vi abbiamo convocato e vogliamo parlarne. Perché di fatto avere un finanziamento da 10 milioni di euro dal secondo più grande gruppo bancario italiano in un momento come questo e con tutto il fuoco di contraerea che è stato fatto nei confronti dell'impianto da più soggetti significa solo due cose. Che AISA impianti è credibile e che questo progetto è un progetto importante per una collettività ma è importante anche perché fa prefigurare bene un equilibrio finanziario importante e quindi è una bella notizia questa. Poi tutta l'operazione è molto più complessa, è molto più costosa, si parla di 40 milioni di euro complessivamente ma aver avuto la conferma da Intesa San Paolo di un finanziamento per 10 milioni di euro è una notizia secondo me molto importante che volevamo condividere con voi.